Sono stati spenti nella notte gli incendi divampati ieri nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murge che hanno bruciato complessivamente 300 ettari tra arbusti di macchia mediterranea, bosco e sterpaglie. I roghi sono scoppiati in contrada San Leonardo, nei pressi di Castel del Monte, ad Andrea e in un'area a ridosso della provinciale 230 tra Minervino Murge e Spinazzola. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato non solo le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Barletta ma anche le colonne mobili arrivate dai comandi di Taranto, Bari e Napoli. È stato necessario non solo istituire un posto di comando avanzato ma anche impiegare il personale del nucleo SAPR, sistemi a pilotaggio remoto per individuare i focolai attivi e scongiurare la presenza di altri. Il fronte del fuoco dell'incendio divampato ad Andrea è stato fermato a un chilometro e mezzo da Castel del Monte. Nella città federiciane è stato aperto anche il COC che ha coordinato alcuni interventi come per esempio l'invio in supporto di equip sanitarie della Misericordia di Andrea per prevenzione sanitaria. Fortunatamente non c'è stato bisogno di evacuare alcune famiglie residenti in zona poiché il fronte del fuoco si è spostato lontano dalle case, evacuati invece alcuni animali dalle masserie. Questa mattina sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco e il personale dell'ARIF, l'Agenzia regionale per le Risorse Idriche e Forestali, che continuano a monitorare le zone danneggiate dalle fiamme per evitare che possano svilupparsi nuovi incendi. Grazie a tutti.